Occhio, c'è qualcuno che viene da me. Sì, l'ho visto. Occhio, sta appena in tre, sono in due. No, uno zombie, l'altro. Non mi spara! No, minchia, l'ho sparato a me. Vaffanculo, dai, lascia. Ma che minchia di arma! Zitto, 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 Nick. Aspetta, mi lenti. Ora, sciacchino, vai. Non l'ho fatto. Dio, scudo. Mi sta andando da... Vaffanculo agli zombie, Dio. In seguito agli zombie mi rimetto nel bunker. Mi metti i citti e ho scudo. Adesso io sono nel bunker e questo qui mi ce ne cancello, il blu. Chi è che spara continuamente? Mi stanno sparando. Mi stanno sparando, sono sulla cordina sopra le città. Mi stanno sparando, sono sulla cordina sopra le città. Si, spara. Ragazza, ma mai ci sta qualcuno. Esatto da lì, eh. Ok, sono dentro. Aspetta, sto loggando dentro di te. Cioè, sotto di te. Da me, eh, il fioro. Ho tirato una bomba al bunker, lo vedo, sto cercando di rush al mio hacker. Eccolo, ecco. Ok, questo. Sono grigio, sto per andare giù. Lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo. Aspetta, io mi stai, io sono titolo e roccia. Ah, l'ho visto, sono in due, raga. Sono in due, sono in due, raga. Sì, davvero, forse ho capito. Sono in due, raga, uno zaino rosso, uno zaino rosso. Chi è qua vicino a me, oh? Chi è il zaino? Spara, spara, spara. Vaffanculo. Sono inconscio, raga, ha ammazzato uno. Ce n'è un altro, ora. Dove sei, Max? Non è che ho capito che ho vero, cazzo. Ragazza, venite verso i sacchi di sabbia, i sacchi di sabbia. Sì, Max, ma tu devi... Dove c'è la... Bragg, oh, ascoltami, dove ci sono i fili? Oh, dietro. È andato, è andato, l'ho fatto, l'ho fatto. Bravissimo, bravissimo, diavolo. Porca Eva. Bravissimo, questa l'ho registrata e bella. Ragazzo, sono io qua vicino. Ciccio, tu l'hai visto, no? Sì, sì, sì. Bene, fai l'ho vedere. Entra, fai l'ho vedere. C'è il camion distrutto. Dopo il camion distrutto, verso la collina. C'è una recinzione, quella con il filo spinato e le X anticarro. Sono andando, non ti vedi? Sì, ti vedo, vai dritto. Dritto. Vedi, vuoi che siete massacini contenti? Sì, sì, sì. Ok, vieni verso più di me. Vieni verso più l'ovatino. Non ti vedo più, comunque. Vieni verso più l'ovatino, ok? Sì, ti vedo. Ah, quindi va top. Seppe dritto, seppe dritto. Guarda più il lato recinzione. C'è uno qua, dentro. C'è tu? No, no, spazio. Caputtana. Forse è il tuo Burgesson. Burgesson. Boh. Muro, raga. E questo qua è fuori. Aspetta che ho visto qualcosa a correre. Sono dentro il muro, io. Ho visto. Adesso ti ho visto. Sto dando le spalle a voi. Sì, sì, tranquillamente. E questo qua è davanti a me. Eh, ho capito. Infatti, panza di... A posto, a posto. Aspetta, aspetta. Eh sì, è panzarotto. Qui stava sparando, Danzo. Proprio qui. Eh, non l'ho risposto. Oddio, io non l'ho risparato. Non so se l'ho risposto. Ma l'ho sparato anch'io, eh. Cioè. No, anch'io. Anche sì. Tatto, potevo spararlo molto prima. L'ho colpito. È andato. Mi sa che è andato in conscious. O gli ho rotto le gambe o è andato in conscious. Non lo vedo, cazzo. No, ma non sto scappando. Di sicuro, perché non lo vedo ancora. Switch o arma, lo ruscio. Ti ho visto. Di fronte a te? Lo sto andando a prendere. Vediamo se lo vedo. Minchia, è lontanissimo, cazzo. No, è sdraiato, è sdraiato, è sdraiato di fronte a te, ciccio. Fermati, andiamo, è lì, è lì affianco a te, sdraiato con le gambe rotte. Ti sta mirando. Fermo lì, fermo lì, è da quella parte. Vai, lì affianco alla strada. Preso, riesco. No, non l'hai preso. Eh, non riesco. Mi trema la mira e non ho l'ottica. Mi dispiace, non riesco a prendere. È ucciso. Beh, lei è andata, è andata. Sono inconscio, sono inconscio. Sono inconscio, ragazzi. L'ho ucciso? Dietro i pini, sì, sì, l'ho ucciso. Vai, 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 li ha tu, parti. Porco giuta, pensavo che non mi stava mirando. E li affaggavo. No, non lo so se ti ha ucciso. No, non lo so se ti ha ucciso. E' qua, è qua, è qua. Sono attivano le tante, mi vedremo i pini. Coprimi. Ma porcaiva, tutti stanno a full stanno questi pezzi di merda. Eh, dato, ci siamo a posto. Qua, andiamo. Dobbiamo, adesso c'è. Guarda che antena, perciò una schiena. Cosa? È un morsico, però. No, c'è un'antena, sì. C'è il baracchino. Eppure è pitturato a camo, eh. Sì, non ci sciotti una malattia, qua. Riproviamo. Noi siamo partiti, Fioro. Oh, sai che potevi attaccarsi la baionetta, no, Dez? Sì, ma sì. Dio, questo diventava proprio un ripetitore. Ecco, vieni. Eh, è sempre 10. Dove? Dove siate? Mi raggiungo. No, ma no, no. Ce ne sono, ce ne sono, ce ne sono, Dez. Cosa? Lo interizzo male, ma ce ne sono in un albero. Che cazzo dici? Su uno o dove? No, no. Eh, no, 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 ce ne sono, ce ne sono. Aspetta, aspetta. Aspetta, dimmi dove. Ma è nella collinetta, dici? Ho sentito un colpo. Io, so io. Dove siate? Siamo nel muro a nord. Siamo a... Ti ha sfiorato di un pelo. Vedi quel pezzo di muretto lì? L'albero subito sotto. Cioè, non il primo a destra, quello dopo. E quello di primo, dai. C'è il pietrone? Sì. Rispetto al pietrone, dopo. Dove c'è il muro? Ma quale cazzo di muro si dice? L'albero... No, il primo. Allora, quel muretto. Vedi che c'è un pezzo di muretto? No, no, no. Vedi, chiamalo come vuoi. Aspetta. User joined your channel. Allora, raga. Eh, non va, non va. Sei su uno. Scusa, fai il giro. Vieni, fai il giro. Cazzo te ne è fotte. Sei su, mi hai visto. Ho capito. Adesso è ancora lì. Dai, lo vedi, lo vedi. Lo vedi? Quello di prima, dai. Lo vedi? User joined your channel. Quello di prima, dai. Quello, è quello. Si è spostato solo più indietro. Dove state? Sto attraversando, eh. Io ci provo a fare un corpo. Dove state? Eh, ho chiesti shot di brutto. Vai. Internazionale. Cazzo, non l'ho re-rideriso così. C'è gente? Si. E uno. Per adesso. Si, c'è su, c'è su. Io posso provare a prenderlo da dietro, ma... Se non c'è, non ho capito dove. Stiato tu? Scappato, sta scappando. Dove va? Dove va? Dove va? Eh, va verso sud. No, verso ovest, scusa. Aspetto negli altri. Lo vedi negli alberi? Sto andando verso ovest. Sempre sulle linee degli alberi a nord. Sempre verso ovest. Io lo sto aspettando. Nella linea degli alberi a nord. Io lo sto aspettando qua. Eccolo, l'ho visto. Zitti un po'. Lo ti vedo, Danz? Ti ho visto? Sei, hai cinque toni. Credo di averlo sfondato, ma non so sicuro perché è da dentro all'albero. Sì, è morto, l'ho sfondato. Qual è? Sì, è morto. Non lo vedi, non lo so. No. Mi sembra di sì, però non so sicuro, quindi mi fico in un albero. Ragazzi, qui c'è se lo slay? Chi può vicinarsi qua? Lì... Ah, dietro gli hangar. Aspetta, provo a tagliarlo. Guardami a tono. Aspetta, 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 aspetta che ci sono vicini. No, no, no. Alla stradina dove è, ragazzi? Dietro gli hangar. Vai dietro gli hangar per un porta 2. Sì, se dice il pulse. Sì, c'è niente. No unit. Eh, vabbè, non fa niente. Dammi il blaze. Qual era? C'era quello lì? C'era quello lì? Ragazzi, io sto arrivando, conservalo per me, questo blaze. Ma, ci sono due persone qua. Ne ho fatto due nello stesso albero. Non ci posso credere, ragazzi. No, 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 no. Non ci posso credere, ho registrato. La porta è chiusa, la presa. Ok. Prima di tutto, guardiamo sta baracca di merda. La porta è aperta, Kiko. Mi sta chiusa, io la vedo aperta. Ok, è aperta, aperta. Ok, è fuori del muro adesso, anche. Adesso va libero. Qua c'è uno zombie. Oh, zombie. E vabbè, la jail. Passo da questi... Questi casottini qua. Sto dietro. Oh, questa è chiusa. Questa è chiusa e mi sembra libera. Guarda con la jail, la L. Con la nuova. Dormitorio. Vado io? Sì, scusi, è il dormitorio. Vado io. Ok, anche questo è libero. C'è da vedere, la jail, ma... Se la porta è aperta, mi sembra difficile, ragazzi. Ma adesso è chiusa la porta del dormitorio nuovo. Ma ci sono io dentro, drone, l'ho detto. Sì, sì. Piano a terra, ok. Se guarda nel piano superiore, c'è la jail. Io sono sotto, arrivo, eh. Sono sotto a scada, io. Io sono il dormitorio, lì davanti. Ho entrato. Vai, vai, sono sotto. Io prendo la pezza e sto a dire. Sopra sembrerebbe libera. Vedete l'ultima stanza, aspetta un attimo. Libera. C'è un baracchino, coiote, sta puntando su, eh. Io si sto sparando. Dietro il baracchino. Cazzo, mi si è impirato il mouse, ragazzi, scusate. Merda. Mi viene involontario. Merda, addio, drone. Sei dietro il baracchino. Quale baracchino? Quindi il coloro porta rossa davanti. Vieni qua alla finestra. Eh, dimmi quale. Questo qua. Lo vedi? Lo vedi da qua? Su a capocetta, vedi? Ah, lo vedo, cazzo. Ho ragione. Porca Eva, sono qua. Kiko, copri la porta. Drone. Drone, è presente di fronte a te che c'è un baracchino con le porte rosse? Drone. Sì. Ok, di fronte a te vedi che c'è un baracchino con le porte rosse? Alla destra del baracchino di fronte a te c'è uno di lato che ci sta guardando. Se tu esci te lo fai easy perché è girato dalla nostra parte. Eh, quindi lui è a sud del baracchino. Come apri la porta alla destra di quel baracchino, nell'angolo? Lo sta guardando da noi, se esci te lo fai un po' facile. Aspetta. Il baracchino con le porte rosse. Sì, è di fronte a te. A sud di quello, no? Esattamente, esattamente, verso la fontana praticamente. Se tu esci e te lo fai. Dopo la mazzia, sì. Dai, dai, dai. Veloce, veloce. Che sta puntando noi, dai. Ok, steggiato da te. 9. Bro, morto. Bravissimo, bro. Fatti tutti e due, eh? Sono inconsciente del baracchino, sono morto del baracchino. C'è un altro, c'è un altro con l'M4. Fammi passare, fammi passare. Che copie il corpo dell'amico. E l'amico è morto. Benzo, c'è passato uno, l'ho davanti al cancello a sinistra, occhio. Entro dentro, baracchino. Oh, cercate di spararmi, è qua. Ce n'è uno. Coyote, fatelo. Anzi, alla lì, alla lì, cioè, sono dentro il baracchino io, Kik, aiutami. È qua, è qua dove ti... L'ho visto. Ho sparato. Kikko, no, 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 non mi... Andiamo, andiamo a tagliare una mano. Avete ammazzato anche al mevo, eh? Che c'è, madonna! Oh, ragà, l'avete mai avuto due. Sono tutto ruined, mi servono le band, sono tutto ruined. Come, vieni sotto, vieni sotto, Kikko. Affanculo. Io ne ho fatto... E c'era quello che... Ma, è morto, è morto anche... È morto anche il drone? Eh, sì, io sono morto ancora nel baracchino. No, io, io lo ti affiono. Sì, sì. Ti ho fatto. Io sono entrato... Ragazzi, vedi il posto dove ho registrato. Oh, sono morti tutti e due. Sì, ma, cioè, ragazzi, ma potete capire...